Signor Dado che succede la vedo un pochino giù forse certe cose succedono di notte visto che giorno adesso Dire qualcosa qualche problema signor bello Si 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 levi l'armatura si fidi mi devi mi levio l'armatura A casa mia andate via Pure incantata wow ma è magico aspetta che mi incenta anche la mia di spada signor bello lei è magico Comunque si è incredibile sarà il pacchino latino è quello è quello